Più ristori, meno ricoveri. Nei giorni in cui nel Lazio sale il numero di ricoveri per Covid-19, oltre 2.900, tra cui 250 in terapia intensiva, si alza ancora più forte il grido d'allarme degli imprenditori che non accedono ad alcun contributo del governo. Si è parlato tanto finora delle categorie costrette a chiudere o a limitare gli orari della propria attività, ma forse poco di quelle che possono rimanere aperte e che per mancanza di domanda lavorano ormai al 30% del proprio potenziale. Per loro nessun ristoro e tanta incertezza sulle prospettive future. Noi operiamo qui sul territorio di Fiumicino, facciamo alberghi e ristoranti e anche il settore aeroportuale. C'ho metà del personale, qui calcola 6-7 persone che stanno in cassa integrazione. Ha subito adesso l'ennesimo arresto. Purtroppo nessuno ci ha menzionato, nessuno dei decreti ristoro, sia il primo che questo di adesso, questo bis. Della questione si era interessata recentemente la Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Federica Poggio. Abbiamo presentato una mozione come Lega e dietro ogni chiusura c'è un indotto, una filiera. E' proprio queste lavanderie industriali che da decreto non hanno mai dovuto chiudere e ovviamente ne risentono, sono al collasso. Abbiamo chiesto in questa mozione al Sindaco di farsi portavoce per far sì che il Governo consideri le lavanderie industriali in questo decreto. L'emergenza non ha confini territoriali. Tra le categorie coinvolte c'è anche quella di Giorgio, titolare di una storica tipografia industriale di Pomezia, che ha visto il suo fatturato crollare vertiginosamente nell'arco di un anno. Tra i suoi clienti c'erano importanti catene di alberghi, agenzie di eventi, banche e assicurazioni, aziende di pubblicità e telecomunicazioni che hanno smesso di far squillare il telefono riducendo drasticamente gli ordini. La mia attività ne sta risentendo parecchio. Io mi occupo di stampa su carta ma non solo. Se nel primo DPCM lo Stato ci è venuto incontro agevolandoci con un piccolo ristoro, in questo ultimo DPCM di ottobre purtroppo la nostra categoria non rientra nelle attività che beneficeranno di questo ristoro e per me questa è una cosa molto grave. Purtroppo inevitabilmente questa situazione lascerà delle cicatrici indelebili su di noi e soprattutto su tutta l'economia.